Il Cus Bari celebra atleti e iscritti e lo fa con una festa a bordo piscina, una serata esclusiva accompagnata da musica e street food. In attesa della premiazione degli atleti e dei gruppi squadra che si sono particolarmente distinti per impegno e dedizione nell'arco della stagione agonistica, raggiungendo risultati di prestigio con i colori del Cus Bari, qualcuno ne ha approfittato per un tuffo rigenerante. A ringraziare tutti i presenti, il presidente Antonio Prezioso e l'intero nuovo consiglio direttivo, tra gli ospiti l'assessore comunale alle politiche giovanili Paola Romano e gli uscenti Giuseppe Seccia e Renato Laforgia. Un momento di valorizzazione degli atleti, spiega il presidente Antonio Prezioso. Sì, è una giornata di festa, è una giornata per far conoscere i nostri campioni. Chiaramente loro sono la punta dell'iceberg, di quello che c'è dietro, di tutto il lavoro che fanno le sezioni, con la promozione dello sport, li fanno crescere i ragazzi e poi raggiungono questi risultati. Diciamo che non è conclusa ancora la stagione, però l'abbiamo fatto più che altro per sfruttare la location della piscina, per cui era giusto premiare chi si è distinto fino ad ora. Chiaramente nel caso ci fossero altri risultati meritevoli non mancherà una seconda serata per premiare gli atleti che hanno raggiunto i risultati, che hanno onorato la nostra maglia del Cusbari, perché è quello importante, è onorare la maglia bianco-rossa. Però qualche parola in più la vogliamo spendere per il canottaggio, perché in questo momento la sezione sta facendo benissimo, soprattutto i ragazzi. Tra l'altro stasera c'è Gabriele Loconsole che ai primi di agosto partirà per vestire la maglia azzurra. Sì, Gabriele quest'anno ha ottenuto dei prestigiosi risultati, la convocazione ai campionati europei, la mela di bronzo sul singolo junior ai campionati italiani e la qualificazione per la Coppa della Genesse, ha vinto proprio la settimana scorsa le selezioni. Diciamo che Gabriele, come ho anche detto in un'intervista riguardo la sua qualificazione, meritava i mondiali. Scelte tecniche l'hanno ottenuto, tra virgolette, nella nazionale B juniores, ma lui ha dimostrato, nonostante questa piccola delusione che tiene la nostra maglia e con orgoglio la difesa, la porterà a difendere in una competizione internazionale la maglia del Cusbari. A ricevere riconoscimenti per i successi raggiunti, oltre alle squadre di volley, calcio a 5, basket, Canoa Polo, Serie A1 e Vela, Francesca Veneto per l'Atletica e l'Arianitti per la Canoa, Gabriele Loconsole per il canottaggio e Cristian Dentico per il nuoto. Uno degli obiettivi di questo nuovo consiglio direttivo è quello di aprire questa struttura a tutta la cittadinanza barese. Intendiamo raccogliere gli iscritti nelle diverse fasce d'età, che non debbano essere quindi necessariamente universitari, quindi noi iscriviamo alle nostre iniziative sia i giovanissimi con il Cus Vacanze, sia l'agonismo con le diverse fasce d'età tra i più giovani e anche gli studenti universitari che partecipano alle diverse iniziative universitari come i campionati nazionali universitari, fino ad arrivare anche ai diversamente giovani, che è una fascia d'età per chi vuole passare del tempo praticando attività sportive presso il nostro centro. Stiamo cercando anche di portare alcune innovazioni che passano sia da nuove discipline o comunque che possono essere implementate, sia anche tramite l'avvio di corsi di cui si parla da tempo ma che di fatto non sono mai partiti. Io in particolare ci terrei a implementare l'attività per quanto riguarda gli sport paraolimpici e anche vorrei incrementare per quanto possibile l'attività femminile, sebbene già ci sia una buona partecipazione, però ci sono alcune sezioni, alcuni sport che scontano magari alcune difficoltà più degli altri, penso in particolare al basket perché lo sto seguendo più da vicino in quest'ultimo periodo, che di fatto non ha una squadra femminile e su cui mi piacerebbe, magari non nell'immediato, ma insomma nel prossimo anno, cominciare a pianificare l'avvio di squadre anche femminili.